Essere o dover essere, ragazzo calabro, senza lavoro ma con tanto tempo libero, sul motorino si va in tre. Che mondo futta mia, è il casco giovane dov'è, ma ci lo metterà a tua zia. Se tu non sai che sui cristiani è sempre un classico, ma una passione forte c'è. Irresistibile, irrefrenabile. Cercati, ragazza da fermare, colalli, aspetta a costa guarda lei, due botte si gliele darei. Forse non è italiana, non è ristaglia e svetlana, you are very maiala. E chi sto che me guarda, ci basta faccio tanta, non dire che c'è vada, ma ovvero non ti manca. De basta faccio tanta, ma ovvero a noi in da karma, ma ovvero non ti manca. Amici di Videocalabria, ben trovati. Amici di Videocalabria, andiamo a fare una sorta di anteprima di ciò che andremo a vedere all'interno di questa puntata. E allora ci saranno, a proposito, Totò Rieto detto Antonio o Antonio Rieto detto Totò, Tecno, Audio, Video e Postproduzione. Come? Postproduzione. Postproduzione, che vuole rire postproduzione? Non ho detto che sono postproduzione. Cioè se ho posto una produzione? Probabile, vabbè. Allora, vedrete i due falcomata, il vero e il finto, e dovreste capire ed indovinare qual è il vero e qual è il finto. I due Mimmo Pratico, presidentissimi della Regina Calcio 1914. Per la Tito. E dovreste anche qui indovinare qual è il vero Mimmo e qual è il falso Mimmo. Poi ci sarà un signor Pudortì, San Gino. Mi sento chiamato in causa, San Gino lo sognuevo. E poi, benvenuto Marro, Aldo Di Giuseppe, Giorgio Casella, Hamid. Una serie di personaggi indescrivibili. Quindi, signore e signori, forza Doku, buona visione. Eccoci qua. I salammu. Avvice buono alla marrofari. An numero uno. Ah, perfetto. Gli asa però, zio, e che facciamo? Non sento niente. Allora, merda, poi, mollo, c'è, stai parlando. Capriglia. Pasquale. Pasquale, Caprini. Pasquale, complimenti perché ti previso, grazie. Ce ne fossero talenti come te in questa città. Ti auguro di fare tanta strada. Anche al nord, magari. Non si vada, non si vada. Oh, senti, Peppe. Giuseppe. Devo fare i complimenti, anche per Sandrino, per il signor Putertì. Non so, la mia, secondo me dovresti fare... La parrucca è un po' sbagliata, però. Sì, perché i capelli sono più corti. La tieni sempre, però. Sì, sì, sì. Perché si dice che i capelli siano nati corti e i capelli lunghi siano solo un'invenzione successiva. Ok. Ma poi dico, ce ne possiamo dare, Peppe? Giuseppe. E allora come stiamo andando, signor Putertì? Sentite, e come funziona il caso Marchingegno? Ah beh, ce l'ha detto. A cui? Che cosa? A me non morissero niente. A me manco. Ce l'ha detto cosa? Non capisco. No, no, ce l'ha detto. Lui. Morisse a voi? A me non morisse ancora. A me non manca a me non resta niente. Però... E a cuciorissa allora. Ma ce l'ha detto. E ve l'ha detto. A me non morisse lo maestro, ma nella materia. Salvatore, come funziona? Devi salire qua dentro. Qua. Ti devi sedere. Vieni. Siediti. Si segga, si segga. Ora l'ha detto. C'è l'ha detto. Infatti ve l'ho detto. E ti devi sedere. Vieni. Ti aiuto. Ah, ah, ah. Hai vede una gazzetta dal sud? Un cuore della vera che era fatto un amoleggio ora? No. Qua non si deve fare. E poi? Ah, ah, ah. A me l'hai da spuntare a casa, gentilmente. Se facete, perché l'ha troppo lunghi. Non siamo dal valdere. Qui siamo in una palestra. Non vi piace? Allora, devi mettere qui. E copiare. Pure una cucciata dei baffi, gentilmente. E poi? Ah, ah, ah. Ecco. C'è. Sì, sì. Ecco. Chiudi. Bravo. E chiudi. Chiudi. Ah, ah, ah. Puoi chiedere di fare il suo movimento? Sì, sì. Senti, io ho un po' qui. No, bravissimo. Ora devi farlo. Non ti ho potuto l'arancia, l'hai. No, non l'hai. Perché già siete stanco? Ah, 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 ah. Sarà, secondo me, una cosa molto difficile. La puntata di oggi la vedo molto difficile. Sì, ma cioncate, giovanotto, c'è così cosa. Aspettate. E se cioncate voi? E non sono casi, cosa, spostate, la sposate. Ma che cosa? Che ne levano poi. Mettete le chiopi. E' una calama seria. Signor Putorti, lei non può fare queste cose. Quello è un ragazzo, è giovane. Piano, piano. Attenzione. Piano, piano. Ma mi roviamo un po'. Vedi un quarto ruolo? Puro 20 minuti. Allora, ora basta con queste cose. Facciamo un altro esercizio. Segui, seguimi. Pindaco, seguimi. Allora, sì. Lascia stare il telefono, per favore. Allora, metti e fai... Uno, due. Uno, due. Uno, due. Ma scusi, signor istruttore, questo è proprio un esercizio del piffero. Bravo, questo esercizio proprio del piffero. Bravo. Lui è un ragazzo molto intelligente. Bravo, del piffero, questo esercizio del piffero. Perché io... Sì. Chi è? Che sono io. Io sono istruttore. Lei è istruttore. Io sono istruttore. Quindi istruttore sono io. No, io sono istruttore. Allora, gentilmente esca fuori, perché l'istruttore sta prendendo un esercizio proprio non corretto. Del piffero che non esiste. Io sono l'istruttore. L'istruttore qui sono io. E chi lo dice? Chi è l'istruttore? Io non sono istruttore. Ok. Io vado a lavare la macchina. Ci attimo di voi. Grazie. Sono il sindaco Giuseppe Falcomatano. Carissimo, complimenti, complimenti. Non fotti il cellulare, però. Scusate. Ma la lezione chi la paga? Oh, sta parlando con me. Sì, con te. La lezione chi la paga? Sì. Devi pagare la lezione. A posto. Anzi, ti chiede chi do con voi. Non c'è problema. Dove allenare, allenati. Non ci sono problemi. Se vuoi caffè... Signorina, per me che fai ragazzo mi hai pagato. Puoi fare l'accesso, la sala. Tranquillo. Sta tranquillo. E' tutto pagato. Grazie. Oh, stanno. Ma signorina bella, state calma. Per ogni una mano evo, che pisa o no? Ma sta facendo... Ma ma richieda se cionca. Ma come si cionca? Mi ha fatto dire la voi meglio. Non mi preoccupare. Non mi faccio niente. Ma è un cavaliere della vecchia scuola. Ma non deve andare a fare questo. Deve fare gli esercizi lei. Non deve guardare gli altri. Vergogna di che... Sono qui e rispetto la vostra presenza. Altrimenti mi verrebbe voglia di tirare i tavoli all'aria. A noi vergogna. A noi vergogna. Ma veramente siamo impazziti. A me non piace chattare o stare sui social. Ma c'è gente che ci va. E che invece di appoggiarlo a qualche meredrice, si deve stare a insultarci. Anche su vicende intime e personale. C'è chi dice che io non faccio la doccia. Io non faccio la doccia. Ma non ci muovacchi. Io non ho mai i denti gialli. Ho sempre le celle pulite. Non ho mai avuto forfora sulla giacca. E non ho messo neanche il gel sui riccioli. Ma ci dicono che ci dicono a noi. Ed è a me in primis che non faccio la doccia. La prossima volta è così chiede. Poi faccio un culo tanto lo faccio. Io non faccio la doccia. Anche senza acqua la faccio. Sbarri centrale, cebbione, calopo, naglio, salo e cenelle, eccetera. L'acqua non c'è. Ah, sono bugiardo come Pinocchio. Sono bugiardo. Un bimbo migliore sindaco pensa a fare i selfie e mi dice rilasciamoci le scarpe. Ma rilasciamoci il gelovello, Giuseppe. La doccia. Ma quale doccia? Lo spacco il culo. E come se non abbastasse, mi è giunta la voce che c'è gente, principalmente i giornalisti, che va a comprare le giacche dalla vecchia dirigenza, da Foti e da una cristiana. Ma vi sembra giusto e logico. Vabbò, quando voglio su noi, il gesto mare a Gesù. Ciao e abbraccio. Aspetta, viene, sindaco, vediamo se non c'è quello passo così che dice che è struttura. Vieni, andiamo, andiamo, vieni. Quanto sono bello. Mentre facciamo il tapirulano, forza, forza, tapirulano. No, il tapirulano no, mi rifiuto. È un'opera della vecchia amministrazione, è un'opera di Scopelliti. Sì, però è l'unico tapirulano che funziona, va bene, questo funziona. Quello là non funziona più, chissà perché. Complimenti, bravissimi, un istruttore formidabile, complimenti davvero. Questo sì che è un bel istruttore. Dai Aldo, dai. Allora, prendiamo, qui, vai, forza. Forza! E, va, va, va. Prende respirazione, respirazione. La respirazione, quando lo io sto parrendo. Forza Aldo, forza, forza. Lavoriamo, lavoriamo. Occhio dove mandi l'aria, Peppe. Giuseppe. Più veloce, più veloce. Come è più veloce? Dai, dai, più veloce, più veloce. Più veloce, per favore. Più veloce, più veloce, dai. Oh, ti vedo, dai. Ah, ah, ti piace, sudare, 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 sudare. Devi lavorare, devi lavorare. Eh, ti stanchi subito però, dai. Dai, e allora, basta così, basta così. Dai, sono un po' stanco anch'io. Basta così. Oh, bravo, bravo, sindaco. Così stiamo facendo il programma perfetto per la salute. Grazie, grazie. Dobbiamo favorire l'integrazione di questi ragazzi straordinari, che sono una risorsa in più per la nostra comunità. Siccome io cal lavoro, però faccio altre cose. Però sì, si può avere un altro lavoro, una casa. Le porto alla residenza, così mi potrà votare. Grazie, sindaco. Quanti fratelli ha? Sette. Sette? Sette solo caldo. Tutti maggiorenni? 15 solo là. Li portiamo tutti? Tutti, tutti. Tutti maggiorenni? Tutti maggiorenni. Oh, grazie, sindaco. Grazie, sindaco. Come io passiamo, come io passiamo. Olè. E dopo una giornata così bella, così intensa, ma così ricca di soddisfazioni, ci sta un bellissimo selfie. Sì. Ecco. Aspetta, ti metto. No, no, no. Qui ci sono io. E io? E tu lì accanto. Andri. Oh, il giorno non passava ancora. Scusa, ma tu non sei fortunata e Valentina? Sì. Proprio così. E allora, fra il tempo che arrivo a seno, hai dei strumenti, facendo un pezzo di borsa, tipo questa ciggia d'Alessio, il Mario Omero, il Minutangelo. Facciamo una tarantella. Una tarantella? Tarantella ciggia. Tarantella ciggia. Tarantella ciggia. E io mi faccio un'altra, ma io non c'è un po' di mezzanotte. E io, a me toccare, ma non puoi scherzare, ma se per un Dio che va mai, mi carabba nera. Che pezzo era, tradizionale? Una trantella che l'ha presa. Perché aveva sentito un po' di... E che faccio, dopo un'iusa, vedete che ancora mi ha cominciato il prezzo. E se ne ho dover essere, ragazzo calabro, senza lavoro ma con tanto tempo libero, sul motorino si va in tre. Che mondo futta mia, e il casco giovane dov'è, ma ci lo metterà sto zia. Se tu non sai che sui cristiani è sempre un classico, ma una passione forte c'è, irresistibile, irrefrenabile. Ah, 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 cercati, cercati, ragazza da fermare, eccola lì, eccola lì. Aspetta, costa, guarda lei, due botte sigli e le darei. Forse non è italiana, ma ristaglia è svetlana, you are very maiala, cammina. Che c'è? E chi so che me guarda, c'è pazza, pazza e tanta, non dire che cavata, ma ovvio non ti manca. De pazza, pazza e tanta, ma ovvio a noi da carma, ma ovvio non ti manca. Ma ovvio non ti manca.